Collego un po' al discorso di Giancarlo, purtroppo sono sempre quelli che non riescono a vincere, che si lamentano, magari di torti subiti o cose del genere, invece quelli che vincono non fanno mai a ragion veduta. E poi anche il rispetto delle regole, io sono stato da giocatore che mi ricordo un pochino, non sono stato mai un esempio di lealtà sportiva, però magari sempre sotto l'aspetto giusto del termine facevo gli interessi della mia squadra, chi non aveva la maglia come la mia era considerato fra virgolette un nemico e quindi facevo di tutto per dare qualcosa in più ai miei colori, però sempre sotto l'aspetto della legalità sportiva, sempre sotto l'aspetto dell'etica sportiva e poi alla fine ti stengevi la mano con gli avversari. Ci sta, il calcio è uno sport fisico di contatto, ci può stare che magari una volta le dai, una volta le prendi, io il più le davo che prendevo, però insomma il calcio è bello anche per quello. Assolto Chiellini dunque? Ma sì, ma sì, Chiellini è un esempio di sportività importante, lo vedi quasi sempre con i cerotti, i tagli, i turbanti, quindi le prende, non è che magari in l'ultimo caso le ha date, però anche se ha fatto un blocco così con il gommetto un po' alto, però sai, è un modo di giocare, come ho detto prima, maschio. Se poi vogliamo fare, insomma, i puritani e dire che non si fa e cosa, va bene, allora tutto si può dire. Però il calcio è bello proprio per quello, oltretutto ci sono forse troppe telecamere in questo momento dietro a una partita di calcio e abbiamo perso quello che è il senso dello sport vero e anche magari qualche volta della furbata. Grazie a tutti.